ciao raga bentornati su dal gamer 87 come vedete oggi siamo in allenamento e volevo farvi vedere un attimo due o tre cosette sul berserker che se ben usato diventa una macchina da guerra e stermina chiunque perché avendo una portata ridotta deve giocare molto vicino all'avversario e se ti prende con i suoi attacchi pesanti fa veramente veramente male intanto raga se non l'avete ancora fatto io vi ricordo di iscrivervi al canale raga tanto per voi è gratis e non vi costa assolutamente nulla detto ciò possiamo partire allora vi dicevo che per aprire per iniziare almeno il combattimento almeno quello che faccio di solito io per aprire la guardia dell'avversario e fintare sempre un attacco pesante da un lato e attaccare con un leggero dall'altra parte potete farlo a destra sinistra oppure dall'alto ok detto questo vi faccio vedere che cosa fare contro un avversario che è senza stamina ovviamente potete fintare un attacco dall'alto e sperare che vi entri un perri ma questo lo vediamo dopo una volta che avrete afferrato il vostro avversario con lo spezzaguardia se lanciato nella stessa direzione del vostro indicatore di guardia questo vi garantisce un attacco pesante laterale e uno dall'alto oppure due laterali vi faccio vedere due laterali oppure un laterale pesante dall'alto e uno di lato c'è uno di lato uno dall'alto come vi ho fatto vedere ovviamente dall'alto fa molto ma molto più danno cosa non fare afferrarlo e lanciarlo indietro questo vi garantisce soltanto un attacco pesante forse e un leggero forse oppure cambiare la vostra direzione di guardia nel momento in cui lanciate il vostro avversario per questo vi consiglio di tenerlo sempre laterale quindi se voi lo afferrate lateralmente e lo lanciate dall'altra parte della vostra guardia l'avversario si alzerà e questo vi darà modo di essere pariabili ok quindi vedete che io ce l'ho in alto lo lancio a destra ovviamente per attaccare devo switchare la mia guardia a destra e questo mi ha garantito soltanto un attacco pesante quindi ricapitolando dovete lanciare l'avversario nella stessa direzione del vostro indicatore di guardia ok due laterali pesanti oppure un pesante dall'alto uno laterale uno dall'alto ok perfetto poi detto ciò se fate un perri ed attaccate contrattaccate con r1 questo è il risultato lui non cadrà e voi non potete più punirlo il modo giusto è attendere un attimino che lui sia quasi caduto a terra per poi attaccarlo ok un'altra cosa che potete fare che se vi garantisce proprio vi garantisce il massimo dei danni è ok quindi potete concatenarlo come meglio credete un'altra cosa che potete fare è spezzaguardia se fate così concludete la serie oppure spezzaguardia lo lanciate fintate il terzo attacco ed un r2 questo vi garantisce il massimo dei danni che potete fare ad un avversario esaurito che si è appena alzato ok raga allora come comportarsi con un attacco leggero parato vi garantisce un attacco pesante dall'alto ok un attacco pesante parato vi garantisce un attacco a zona più un r1 garantito centro ovviamente ok per quanto riguarda i deflect si fa in questo modo dobbiamo fare in questo modo se siete vicino a un muro lo lanciate attacco dall'alto garantito pesante ok questo vi garantisce 29 di danno ed è quello che fa più male del berserker se siete lontani dal muro attacco pesante garantito laterale se siete vicino ad un muro raga attacco pesante garantito dall'alto questo vi garantisce 29 di danno come vedete se siete lontani dal muro invece attacco pesante laterale e questo non ve lo toglie nessuno ok però fa un po meno male ma comunque è un bel danno detto questo raga io vi saluto e vi rimando alla mia prossima guida su dei consigli che potete ricevere ovviamente non dimenticatevi mai di cambiare guardia e azzerrare i tempi di recupero degli attacchi schivando questo vi rende ancora più mobili e più pericolosi dal gamer 87 è tutto raga ovviamente più lo usate più imparerete a fronteggiare i vari nemici ok ciao raga alla prossima